Bentornati a tutti. Oggi è lunedì, 25 marzo 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Segno fortunato. Maestro e allievo a confronto. Nel mito greco il vostro astro guida Plutone il dio del mondo sotterraneo, pieno zeppo di ricchezze materiali e spirituali. Nel cielo del momento e ne sta tranquillo in quadratura deciso a schiaffeggiare tutti gli altri tranne voi, i suoi figlioli prediletto. È sempre lui a riportare in auge il passato convincendovi a frugare tra i segreti di famiglia, anche i più imbarazzanti, perciò acqua in bocca. È così che oggi, con il placette della luna amica in sé stile, vi ritroverete a seguire il filo dell'ispirazione, dono di Venere e di Nettuno. Col partner parlate di tutto e senza mai alterarvi, concordi sui principi, gli svaghi, l'educazione dei figli e naturalmente sulla destinazione delle vacanze ormai eminenti, nulla di paragonabile con gli scorsi anni, con trekking movimentati e amici rompiscatole al seguito, voi due da soli insieme ai pargoli starete benone. Cambiamenti in vista con Giove e Urano all'opposizione, ma il futuro e la felicità sono di chi è capace di adattarsi cavalcando il destriero delle novità. Il rapporto nella coppia evolve in modo particolarmente positivo e si concretizza. La consultante se questa è donna, una persona sincera, devota, che sa farsi amare, amabile, dai modi gentili e accattivante. L'amante perfetta, la fidanzata, la moglie, la regina del nostro cuore. Un'amica fidata che ci aiuta a venire a capo di una situazione o ad aiutarci in un momento di difficoltà. Giornata ottima per comprare vestiti e prodotti per la bellezza. Fascino sugli altri con i tuoi modi di fare. Oggi non fate nulla a caso, pensate bene ad ogni cosa prima di intraprenderla, soprattutto se riguarda l'amore. Potreste pentirvi della troppa fretta. Dal passato ritorna una vecchia conoscenza che potrebbe essere cambiata. Cerca di essere cauta. Marte e Plutone vi renderanno forti e inattaccabili per quasi l'intera giornata. Se a questo aggiungete la fortuna che Giove favorevole a voi vi donerà, allora la giornata sarà tra le migliori della settimana o del mese. Cercate di addolcire la persona che vi sta a cuore, oggi siate particolarmente accattivanti e cercate di conquistarla. Se aspettate un ritorno sappiate che oggi è il giorno decisivo per fare voi passi significativi e favorire un corretto chiarimento che potrebbe portare. A una felice situazione. Un persona che non vedete da tempo vi sta pensando, è l'occasione giusta per chiarirsi definitivamente. Date sempre un'altra occasione almeno. Cercate di trovare la pace interiore che da un po' vi manca, se l'amore non va come dovrebbe in parte è anche colpa vostra trovandovi incapace a prendere le giuste e drastiche soluzioni. Per chi ama in modo clandestino si affaccia al pericolo di essere scoperti. Configurazione planetaria che appare discreta, grazie a una luna molto positiva, occupando il segno amico della Vergine che vi immerge in occupazioni sane e quotidiane. Con Saturno bello in pesci, però potete dare pure modo alle vostre ambizioni più brillanti di esprimersi piuttosto vigorosi specie se siete nati nella seconda decade e avete progetti di lungo respiro. Dolcissima Venere in pesci, nel segno più romantico e spirituale dei dodici, per di più affiancata a Nettuno fantasioso, sentimentale e sempre caritatevole. Non può star bene se non stanno bene anche gli altri, il bene individuale diventa il bene di tutti. Penamente d'accordo con lui ma non con voi il grande Giove abbracciato a Urano. Amichevole la luna in vergine, pragmatica, intellettuale, ma tutt'altro che emotiva. Amore ed Eros. Battaglia con il partner, inizialmente sembrate pappa e ciccia, pronti a un dialogo sereno e costruttivo, poi all'improvviso uno dei due dà fuori di testa e comincia a votare il sacco, riecheggiato dall'altro che fa lo stesso. E anche di più. Gelosia e rabbia retroattiva il movente della discussione, che va degenerando, attenti, i vicini vi ascoltano. Vi avvicinate con particolare delicatezza alla persona amata, riuscendo a toccare le corde segrete del suo animo e affascinandola potentemente con la carica prorompente e magnetica della vostra personalità. Una bella sintonia sul piano sessuale, ma anche mentale, vi accompagna in questo primo mese di primavera. I singli sperimentano, dal canto loro, anche una bella fase di successi erotici e di conferme del loro fascino, specie se appartengano alla terza decade, gratificata dal dio dell'avventura, l'estroso Nettuno, in angolo felice dal segno dei pesci. Lavoro e denaro Piena emotiva, soluzioni geniali e ispirazioni creative vi arrivano dai sogni, quando siete in ascolto della voce interiore vi basta allentare la tensione per creare meraviglie. Buona idea nella giornata nazionale per la promozione alla lettura regalarsi o regalare un libro, ora che con la bella stagione proliferano i mercatini di quartiere e dell'usato, anziché il cioccolato un libro sarà un bellissimo biglietto di auguri. Vi avvicinate con particolare delicatezza alla persona amata, riuscendo a toccare le corde segrete del suo animo e affascinandola potentemente con la carica prorompente e magnetica della vostra personalità. Una bella sintonia sul piano sessuale, ma anche mentale, vi accompagna in questo primo mese di primavera. I singli sperimentano, dal canto loro, anche una bella fase di successi erotici e di conferme del loro fascino, specie se appartengano alla terza decade, gratificata dal dio dell'avventura, l'estroso Nettuno, in angolo felice dal segno dei pesci. Benessere. L'agitazione può causarvi mal di testa e fastidiose infiammazioni, scaricate il surplus energetico con una bella corsa o una biciclettata al parco. Vi sentirete come nuovi. Denaro. Giove e Plutone vi remano contro. Non vi avventurate in acquisti che mostrerebbero costi successivi o nascosti. Mantenete alto il livello della vostra attenzione. Per lei, logica e sensibilità vostre alleate che sfoderate a tempo debito, mandando avanti l'una o l'altra a seconda della necessità. Per lui, ottimismo a tutto campo, non solo lo vivete personalmente, ma lo trasmettete anche all'esterno, ecco perché sui social tutti vi seguono come guru, siete distributori automatici di energia positiva, ma che brutta parola followers ovvero seguaci, è tempo di ridimensionare l'ego. Colore delle emozioni, rosa. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 9. Finanze, 7. Beneessere, 9. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.